Il 25 giugno andrò a votare Simone Petrangeli perché non si può arrestare il percorso di cambiamento iniziato cinque anni fa, un percorso all'insegna della legalità, della trasparenza e del bene comune. Io credo nella buona politica e il percorso di Simone Petrangeli non deve essere fermato. Il 25 giugno torno a votare perché il futuro di questa città passa per le mani e per le idee di Simone Petrangeli. Non fermare il cambiamento. Teniamo a casa chi questa città l'ha già calpestata.